Dieci deputati e cinque senatori. Totale 15 neoparlamentari marchigiani con la valigia verso Roma che emergono da questa tornata elettorale. I primi sei sono scattati in automatico nei quattro collegi uninominali di Camera dei Deputati e fra i due senatori che dipingono una netta vittoria 6-0 per il centrodestra su un centrosinistra che rimane a bocca asciutta. La provincia di Pesaro Urbino sarà rappresentata alla Camera dei Deputati da Mirko Carloni, assessore regionale ed esponente della Lega che ha battuto Giordano Masini di Pio Europa, candidato della coalizione di centrosinistra. Territorio pesarese e anconetano che al Senato vede invece vincere Antonio De Poli nel collegio Marche Nord. Parlamentario uscente, De Poli, presidente dell'Udc e rappresentante della lista Noi Moderati, ha battuto Marco Bentivogli, ex segretario sindacale che rappresentava la coalizione di centrosinistra. L'altra senatrice eletta dall'uninominale è la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi, che vince nel collegio Marche Sud. Alla Camera Fratelli d'Italia conquista un altro posto in Parlamento grazie a Stefano Benvenuti Gostoli nel collegio di Ancona, mentre Forza Italia si prende un rappresentante marchigiano dal collegio Ascoli Fermo con la vittoria di Francesco Battistoni. Giorgia Latini vince invece nel collegio di Macerata, portando a due gli eletti della Lega alla Camera dei Diputati e a due anche gli assessori regionali che salutano Ancona e la Giunta a Quaroli. Dopo Carloni e Latini è però scontato anche il saluto del terzo assessore, Guido Castelli, che per Fratelli d'Italia è in pole position per prendersi uno dei nove posti in Parlamento che saranno assegnati col calcolo proporzionale. Aspettando l'ufficialità che emergerà dagli stili plurinominali, Fratelli d'Italia, grazie al consenso ottenuto, riconfermerà in Parlamento anche Lucia Albano e con ogni probabilità anche il pergolese Antonio Baldelli, che risulterebbe l'unico altro esponente della provincia di Pesaro Urbino, oltre al fanese Carloni. Per il centro-sinistra scontati i posti assegnati ad Alberto Losacco e Irene Manzi per il Movimento 5 Stelle, quello a Giorgio Fede.